Abramo ha ricevuto da Dio l'ordine di sacrificare il figlio Isacco come prova della sua fede. Il giovane si sottomette coraggiosamente al proprio destino, ma mentre il padre sta per calare la spada, interviene un angelo che ferma la mano di Abramo e gli indica una riete da sacrificare in luogo del figlio. La drammatica scena è proiettata in primo piano ad accentuare un senso di immediatezza. Abramo è la figura più importante del dipinto e domina il quadro con gli accesi rossi e blu dell'abito. Domenichino fu allievo della scuola dei Carracci, divenne un artista molto popolare, a cui venivano spesso commissionate opere per i palazzi, le ville e le cappelle nei torni di Roma. Pur in periodo marocco, caratterizzato da vorticosi effetti pittorici, lo stile di Domenichino rimase sempre profondamente classico. Per questa sua caratteristica il pittore fu malaccolto a Napoli e abbandonò la città lasciando molti lavori incompiuti.